Una domanda che si stanno facendo in tanti e che mi state facendo in tanti è quale sarà la migliore app di terze parti per registrare video sul nostro iPhone 15 Pro o su un qualsiasi iPhone per la verità, perché è un'app che funziona anche sulle versioni più recenti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e qualche volta anche di video. So benissimo che la maggior parte dei miei iscritti fanno quasi esclusivamente fotografia, però ogni tanto troviamo un po' di tempo da dedicare anche al videomaking e vi consiglio di seguire questo video fino alla fine, perché sicuramente imparerete qualcosa di molto interessante sulle grandissime possibilità creative che potete trovare all'interno del vostro iPhone 15 Pro. Prima di cominciare vi ricordo di cliccare il bottone iscriviti sul mio canale, perché vedo che il 60% di chi ha guardato i miei contenuti in quest'ultimo mese non è iscritto al canale, questo è veramente un peccato, perché oltre a perdervi tutti gli aggiornamenti che cerco di buttare fuori con regolarità, rischiate di perdervi anche le risposte video che io pubblico ai vostri commenti, per cui mi raccomando vi aspetto qui sotto. L'app che vi presento oggi è un'applicazione gratuita e si chiama Blackmagic Cam. La potete scaricare in via del tutto gratuita, perlomeno nel momento in cui faccio questo video, poi se la mettono a pagamento non è mia responsabilità, ma al momento la potete scaricare in maniera completamente gratuita dall'App Store. Molto bene, ma eccoci qui all'interno dell'applicazione Blackmagic Cam. Ho fatto un'inquadratura a caso, giusto per farvi vedere quello che andremo a fare oggi. Innanzitutto, come potete vedere, qui abbiamo, io vado a toccare questo indicatore che mi fa vedere l'ingresso del mio gain. In questo caso vedete che Audio Gain è a zero perché non ho collegato un microfono esterno, quindi sta prendendo il segnale direttamente dal microfono dell'iPhone. E in questo caso, vedete, è in grigio e quindi non posso fare modifiche, ma se gli andassi a collegare un microfono esterno potrei anche andare a fare delle modifiche. In basso a sinistra vedete che abbiamo un bell'istogramma, che infatti vedete che cambia a seconda di quello che faccio. Se io mi sposto vedete che luci e colori vengono modificate. Andiamo ora nell'angolo in alto a sinistra. Come potete vedere qui abbiamo l'opzione Lens. Come chiaramente potrete intuire, qui andiamo a modificare la nostra focale e possiamo andare a scegliere tutte le focali del nostro iPhone, compresa la camera frontale che ora non vi faccio vedere perché alle mie spalle c'è un po' di disordine. Muovendoci di uno step a destra vedete che andiamo a selezionare gli FPS, i frame al secondo. E qui è molto interessante la vicenda perché come vedete abbiamo i 23,98, ma abbiamo anche i 24, quindi il vero frame rate del cinema. Abbiamo i 25 per chi vuole andare in televisione o vuole fare broadcast. Lo standard italiano europeo è 25 frame al secondo, quindi se vogliamo evitare il flickering utilizziamo questa velocità, anche se come potete vedere io non ho nessun effetto flickering nel momento in cui uso 23,98 o 24 perché sto usando delle luci anti-flickering. Quindi non siamo schiavi di questa idea. Si possono usare i frame rate anche senza avere l'effetto flickering. Non è obbligatorio usare i 25 frame al secondo e vi garantisco che sto girando dall'Italia. Salendo abbiamo i 29,97, abbiamo i 30, quindi vedete che è molto completa questa app. Abbiamo i 48 addirittura, quindi il doppio di 24, abbiamo 50, quindi il doppio di 25, abbiamo 59,94 e 60. Quindi abbiamo tutti i frame rate disponibili. Io vi dirò che lo tengo su 23,98 semplicemente perché così matcha con le altre videocamere che uso, così ho le produzioni tutte allineate. Poi abbiamo, sempre muovendoci verso destra, abbiamo i tempi di shutter. Andiamo a vedere qui e possiamo andare da un ventiquattresimo di secondo a un otto millesimo, quindi una velocità che rivaleggia con quella delle fotocamere e videocamere più performanti e professionali. Adesso noi andiamo a posizionarci a un cinquantesimo, che va bene per 23,98, potrei fare anche un quarantottesimo, ma non è che cambi tanto. Sono abituato a fare un cinquantesimo e quindi rimaniamo così. Come potete vedere, qui c'è un lucchettino, qui in alto a destra, un lucchettino blu, vedete? Io posso metterlo e toglierlo. Nel momento in cui lo metto, sto bloccando il mio shutter, che è una cosa che a me fa molto gioco. Io preferisco averlo bloccato perché non voglio avere un tempo di shutter diverso da quello corretto, quindi lo voglio assolutamente tenere così. Muovendoci sempre a destra, vedete che, non so se riuscite a vederlo, mettiamoci qui così lo vedete, subito sulla destra di shutter abbiamo Iris F2.8, che è in grigio, non lo posso utilizzare perché è bloccato, perché l'iPhone un diaframma vero e proprio non ce l'ha, quindi non si può usare quella funzione. Andiamo sulla destra del nostro timecode e vedete che abbiamo i valori ISO. Qui noi possiamo muoverci tra un incredibile valore di ISO 18 1828 fino a un non esagerato valore di ISO 1728, quindi non so se questi siano i valori reali di iPhone, io sono convinto che questi siano valori che l'app estrapola, però tant'è, quindi abbiamo questo range in cui muoverci. Spostandoci ancora sulla destra abbiamo White Balance e qui abbiamo delle opzioni interessanti. Noi possiamo andare a selezionare le scene, quindi io gli posso dire sole, gli posso dire tungsteno, gli posso dire neon, gli posso dire penombra e nuvolo e vedete che la temperatura cambia. Ma la cosa più bella di tutte è che posso anche con questo cursore andare a selezionare esattamente la temperatura colore che voglio io, quindi con la massima libertà gli posso dire se voglio una ripresa calda 10.000 o se voglio una ripresa fredda 2.500 Kelvin e questo è veramente top perché così io posso matchare la scena e farla corrispondere esattamente a quello che vedo, proprio come in questo caso. Posso anche dirgli automatico in maniera tale che la fotocamera decida da sola qual è la temperatura e la tinta più adatta. Muoviamoci di uno step a destra e qui vediamo una cosa che sulle fotocamere di solito non c'è, ovvero oltre al white balance possiamo gestire anche la tinta. Questa è una cosa molto interessante perché oltre ad agire sul giallo e sul blu qui possiamo andare ad agire anche sul verde e sul magenta. Questa è una cosa molto interessante per me. Come potete vedere nel momento in cui usiamo le scene preimpostate c'è un preimpostato anche per la tinta. Però proprio allo stesso modo della temperatura noi possiamo andare ad agire liberamente sulla tinta e quindi possiamo andare a impostare un white balance ben preciso e una tinta ben precisa. Questo a mio parere è uno strumento molto potente per avere una gestione veramente consapevole del colore. Molto bene, a questo punto ci spostiamo lateralmente sulla banda nera e andiamo a vedere le opzioni a partire dall'alto. Questa prima opzione che vedete è la zebra. Noi possiamo andare a impostarla al 100%. Vedete, se la impostiamo al 100% solamente le parti bruciate saranno con la zebra mentre se andiamo al 75% vedete che le parti contrassegnate dalla zebra aumentano. Ora, 75% credo di aver indovinato che è la misura giusta per l'incarnato di un bianco caucasico. Quindi se vogliamo esporre per la carnagione questa è l'opzione da impostare. Possiamo metterla on e off semplicemente con un tocco quindi molto comodo. Un'altra opzione che abbiamo a disposizione è quella delle griglie e delle guide. Quindi io posso accenderle o spegnerle a mio piacimento e posso anche decidere quali vedere e quali no. Vedete, è completamente personalizzabile. Posso anche decidere di avere on i bordi di sicurezza in alto e in basso. Posso decidere di avere on un margine di sicurezza a caso mai mi servisse fare un crop importante in post-produzione o se devo mettere delle scritte o cose del genere. Attenzione, incredibilmente interessante. Qui ho il false color, quindi uno strumento essenziale per il videomaking moderno con cui, vedete, sono in grado di capire con buona approssimazione come sono esposte le varie zone della mia ripresa. Qui sulla sinistra, come potete vedere, ho un'indicazione di quello che sto vedendo delle varie aree di colore. Quindi 18% è verde, per cui tutto quello che è verde dovrebbe ricadere nell'area di grigio 18%, quindi dovrebbe essere esposto correttamente. Ovviamente anche questo è uno strumento da sperimentare perché bisogna vedere come reagisce alle varie esposizioni e questo è pur sempre un telefono, quindi potrebbe essere meno preciso di una fotocamera o videocamera da cinema. L'ultima opzione di questo pannello si chiama LUT e sta per Look Up Table. Ora, in questo momento io se la metto on non succede niente perché io non ho delle LUT caricate su questo telefono, però quest'opzione servirebbe per andare ad applicare un look preimpostato alle mie riprese. Quindi io potrei dargli un colore preimpostato che ho deciso e avere quello su tutte quante le mie riprese. Ora, passiamo alla seconda opzione, sempre qui in alto a destra nella banda nera. Questo è il fuoco. Come potete vedere io posso avere l'autofocus, ma posso anche gestire il fuoco manualmente. Questa è una cosa molto interessante che normalmente sull'iPhone nativamente non si può fare. Adesso andiamo a rimetterlo su Auto così ci pensa lui. Subito dopo abbiamo un'opzione per la compensazione dell'esposizione. Un'altra cosa che io tendenzialmente non userei mai. Vedete che va a modificare gli ISO sostanzialmente. Va a cambiare il valore di ISO da 1728 a 18 proprio come prima. Quindi è come se stessimo modificando gli ISO. Per quanto mi riguarda quest'opzione è completamente inutile. Però c'è e quindi tanto vale sapere che c'è e lì possiamo decidere di usarla. Qui abbiamo una cosa molto interessante, ovvero la stabilizzazione. In questo momento vedete che è off. Adesso io la metto standard. Vedete che c'è un piccolo crop, ma diventa molto più fluido. Adesso io vado a mettere cinematic e guardate. Sì, c'è un po' di rolling shutter ovviamente, però guardate come diventa più morbido tutto quanto. E adesso andiamo a mettergli estremo. Vi assicuro che io sto facendo dei movimenti abbastanza bruschi da essere sgradevoli, ma il telefono va a compensare in maniera molto molto morbida. Guardate, io adesso continuo a fare lo stesso movimento e metto off. Guardate su off come si comporta male rispetto a extreme. Guardate come diventa fluido. È praticamente magia, stregoneria. Adesso lo rimettiamo su standard. Abbiamo poi una lente di ingrandimento che ci permette di zoomare ulteriormente. Questa credo che non la userò mai perché deve essere uno zoom digitale. L'ultima tab ci permette di salvare le nostre clip nominandole, quindi proprio come se stessimo segnando le scene. Quindi scena 1, scena 2, eccetera, eccetera. E così possiamo catalogare le nostre scene per ricordarcele. Ora andiamo tutto a destra nella banda nera e vedete che da camera passiamo a media. Qui abbiamo l'opzione di selezionare i media che abbiamo già realizzato. Possiamo mandarli in play. Possiamo buttarli via. Possiamo vedere le informazioni. Oppure possiamo inviarli con airdrop su un telefono o su un computer per poter lavorare il file in separata sede. Oppure ovviamente possiamo cancellarlo. Le opzioni di chat non ci interessano, quindi non ve le faccio neanche vedere. Andiamo un attimo su settings. E queste cose sono interessanti. Allora, opzioni di registrazione. Su codec vedete che noi abbiamo la possibilità di scegliere EVC H.265, quindi lo standard di compressione attuale. Ma possiamo anche scegliere l'H.264. Questa è una manna dal cielo. Perché se è vero che l'H.265 è lo standard attuale quindi è importante poterlo utilizzare per tutte le nostre produzioni è vero anche che molti di noi magari non hanno un computer abbastanza performante da utilizzarlo e quindi preferiscono rimanere con il vecchio H.264. È bello poter scegliere lo standard vecchio. A me fa piacere averlo. Poi abbiamo Apple ProRes 422 Proxy abbiamo Apple ProRes 422 Lite ProRes 422 e 422 HQ quindi abbiamo a salire dei livelli di compressione sempre più bassi e un file sempre più pesante con una qualità sempre maggiore. Francamente vi dirò che utilizzo semplicemente l'H.265 perché se no mi esploderebbe il computer. Andiamo sulle opzioni della camera e abbiamo un Anamorphic Desqueeze che io non uso perché non sto usando lenti anamorfiche. Enable Vertical Video sì, questo l'ho messo perché ogni tanto faccio video anche verticali. Abbiamo qui tutta una serie di opzioni che io lascio attive perché la correzione della lente piuttosto che il bilanciamento del bianco bloccato durante la registrazione sono cose che a me vanno benissimo così quindi le ho lasciate come erano di default. Per quanto riguarda l'audio qui possiamo selezionare la sorgente audio quindi se andiamo a selezionare microfono iPhone stiamo chiaramente usando il suo microfono interno se colleghiamo dei microfoni verranno rilevati in questa sezione e potremo selezionarli liberamente. Monitor qui abbiamo delle opzioni come l'aiuto per la messa a fuoco io ho selezionato il peaking perché sono abituato il colore del peaking l'ho scelto rosso perché anche lì è un'abitudine opacità delle guide quindi possiamo vedere le guide con un'opacità del 100% o solo del 25% le guide per intenderci sono queste sono queste righe che vediamo sulla nostra ripresa quindi in questo momento sono semi trasparenti perché sono al 25% se le volessimo più prepotenti potremmo metterle al 75% o al 100%. Passando alla tab media qui vedete che abbiamo tutta una serie di opzioni per cui per esempio upload proxy only quindi in questo caso significa che stiamo caricando solamente i proxy oppure i proxy e gli originali insomma queste sono scelte specifiche che dobbiamo fare a seconda del tipo di produzione che stiamo seguendo caricamento automatico su un progetto dedicato io questa vi dirò che la tolgo in realtà caricamento solo con il wifi queste sono opzioni per caricare le clip in cloud se dovessimo farci l'account di Blackmagic quindi io queste cose non ce le ho però nel caso le voleste provare a utilizzare sono sicuramente valide salvare le clip solamente nell'app oppure nell'app e nella libreria oppure nei file quindi noi possiamo decidere se salvare i nostri filmati solamente nell'app oppure averne una copia sia nell'app che nella libreria oppure salvare direttamente nei file tutto molto complicato vi dirò che io le lascio nell'app perché tanto poi me le mando con airdrop su un computer o su un altro telefono LUTs come vi dicevo qui abbiamo la selezione delle LUT però io non ne ho scaricata nessuna per cui al momento è vuota e quindi non posso usare le LUT ma solo perché non le ho scaricate e perché di solito queste cose le faccio in post se vi scaricate delle LUT compatibili le vedete qui e potete selezionarle accessori sì qui accessori connettibili via bluetooth io non ne ho nessuno per cui non posso farvi vedere niente di tutto questo Blackmagic Cloud qui come vi dicevo se si fa login e ci si crea l'account e si possono caricare i filmati direttamente in cloud lì forse ci sarà un piano non penso che ci diano lo spazio illimitato gratuitamente ci sarà sicuramente un piano per caricare i nostri file perché è roba che pesa soprattutto se giriamo in ProRes dopodiché abbiamo un reset qui abbiamo le informazioni sul firmware sulla versione dell'app e direi che questo è tutto bene amici come avete potuto vedere si tratta di un'app pazzesca praticamente trasforma un telefono cellulare in una macchina da presa cinematografica questo che cosa significa che possiamo buttare via tutte le nostre macchine da presa se abbiamo una Alexa la buttiamo via perché adesso si fa con l'iPhone assolutamente no ovviamente questo è e rimane un device mobile quindi non ha la potenza di fuoco di una vera macchina da presa il fatto di poter utilizzare un'app come questa però è molto interessante perché da un lato ci permette di sperimentare noi possiamo giocare possiamo capire come funzionano determinate cose possiamo capire come si usa il false color possiamo capire come si usa la zebra possiamo capire come si comportano certi formati a certi codec video certi contenitori possiamo capire tutta una serie di cose possiamo fare degli esperimenti possiamo fare delle prove possiamo usarlo come seconda macchina e alla brutta possiamo anche usarlo come prima macchina secondo me non è una buona scelta girare un film, un corto, una serie, qualsiasi cosa utilizzando un iPhone non è mai una buona idea secondo me però potremmo farlo il risultato sarebbe uguale a quello di una macchina da presa vera assolutamente no una macchina da presa vera catturerebbe molte più informazioni avrebbe dei file ancora più pesanti ancora più difficili da gestire e ancora più bisognosi delle attenzioni di un colorist, di un montatore perché poi all'aumentare dell'importanza del progetto aumentano anche le sue necessità questo rimane in fin dei conti un oggetto consumer e quindi noi possiamo girare possiamo fare delle riprese a livello amatoriale però con una consapevolezza molto più profonda rispetto al passato perché un'app come questa comunque ci obbliga a informarci su quello che stiamo facendo noi non possiamo girare in 422 ProRes così tanto per a quel punto dobbiamo attaccare un SSD esterna e registrare in una maniera consona quindi un'app come questa ci costringe a prendere atto di esigenze tecniche specifiche di quello che stiamo facendo e quindi magari ci aiuta anche a progredire nel nostro video making sicuramente i modelli di esposizione, le LAT sono tutti strumenti che il false color, la zebra ci aiutano a capire la nostra scena vi faccio un esempio, io utilizzo la zebra per fare le mie riprese quindi io vedo per esempio se sono esposto correttamente oppure no lasciate perdere che ogni tanto sbaglio lo stesso perché poi a volte lo guardo a volte no, a volte lo spengo però normalmente io controllo, anche se il setup è sempre lo stesso io controllo se sono esposto correttamente in questa maniera so se il mio incarnato è esposto nella maniera giusta e quindi di conseguenza poi io vedo qual è la quantità di luce che mi arriva perché comunque mi vedo in ripresa e quindi capisco anche come impostare le luci su un'altra scena perché l'ho già fatto, l'ho fatto su di me quindi lo so fare su degli altri questa volta senza guardarla la zebra perché ho capito come si comporta la mia strumentazione ho capito come si gestisce la scena quindi uno strumento come questo secondo me non deve essere per forza preso come uno strumento di lavoro può anche essere preso ed è il mio caso ad esempio io lo utilizzo molto come uno strumento di studio io valuto le scene con uno strumento come questo mi faccio le mie idee, faccio i miei esperimenti giro delle riprese magari con una qualità superiore rispetto a quella che potrei avere senza un'app di questo tipo ho anche provato a utilizzare l'iPhone per girare un contenuto per il canale però siete stati voi i primi a dire come si vede peggio del solito però che cosa hai combinato hai usato il tele... cioè capite per quanto sia bello non è all'altezza della strumentazione che uso abitualmente per cui non credo che lo userò in pianta stabile per fare i contenuti perlomeno non quelli in studio quelli in esterna sicuramente sì, semmai ne farò perché al momento non ne sto facendo ma quelli in studio non credo che userò questo strumento neanche con un'app di questo tipo perché anche se l'app è potente anche se eleva il mio telefono permettendomi di fare tutto quello che voglio la qualità non è proprio la stessa che io posso tirare fuori da una fotocamera e guardate che adesso sto usando la M50 prima versione quindi non sto neanche usando la R7 che ha una definizione meravigliosa sto utilizzando la mia macchina e il mio muletto questo è il mio muletto per fare i video quindi è una macchina molto semplice, molto easy la trovo comunque più scolpita rispetto all'immagine che riesco a tirare fuori dall'iPhone non che questo voglia dire che l'iPhone non sia un buon device io sto adorando questo telefono mi permette di fare un sacco di belle cose che prima non potevo fare con una comodità molto maggiore che prima non avevo quindi è bello avere un device come questo in tasca è un upgrade per me però è un upgrade rimanendo nell'ambito smartphone quindi social, quindi stories nel momento in cui devo fare un contenuto come questo voi direte una cavolata YouTube è sempre social per me no per me YouTube è anche cinema in qualche modo nel senso che si cerca di portare io non ho un'esperienza cinematografica però si cerca di portare qualcosa di più figo su YouTube piuttosto di quello che si fa in una storia perché una storia, sapete anche voi, è usa e getta rimane lì 10 secondi e poi sparisce i video di YouTube vengono cercati più a lungo quindi la cura che si mette nel setup nell'illuminazione qui è maggiore piuttosto che in una storia dove si balla sulla hit dell'estate ma non mi dilungo troppo perché adesso vi lascio spazio nei commenti e voglio sapere voi che cosa ne pensate conoscevate quest'app? la utilizzavate già? magari utilizzate già il vostro iPhone per girare dei brevi video e non siete soddisfatti della qualità che tirate fuori magari non siete soddisfatti della temperatura colore o della tinta perché l'iPhone fa da solo e quindi con un'app come questa magari potete tirare un pochettino sulla sticella delle vostre mini produzioni fatemelo sapere in un commento se l'avete trovato utile lasciate anche un like a questo video vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto a voi non costa nulla per il momento per il canale è una manna dal cielo signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al nostro canale